Buongiorno amici di Corriere Alto Milanese, oggi in studio abbiamo ospite ancora Felice Sgarella, pochi giorni fa ha sollevato alcune perplessità in merito al bilancio e proprio ieri c'è stata una conferenza stampa del sindaco che te Felice hai avuto modo di ascoltare, i tuoi dubbi, le tue perplessità sono state fugate, dici qualcosa? I miei dubbi sono stati sfuggati diciamo al 98 per cento, per cui la mia promessa di non andare in consiglio comunale nella prima conferenza che ho fatto qui presso di voi è superata, sto analizzando tutta la documentazione che mi è stata presentata ieri per il consiglio comunale di lunedì, sarò presente e cercherò di dire la mia, per cui diciamo che se può essere chiamato dissenso, il mio dissenso è rientrato, in effetti non era dissenso come alcuni amici di Forza Italia hanno voluto farlo vedere. E' stato inviato un comunicato stampa del gruppo Forza Italia in consiglio comunale. Ecco per me questo comunicato hanno preso l'uccio le perlanterne, tanto è vero che io avevo invitato la mia capogruppo Laura Cattagno a non emettere comunicati prima che il sindaco facesse la sua conferenza stampa, perché da lì potevano emergere cose nuove. Lei non so perché, ha voluto anticipare i tempi e ha fatto un comunicato fuori dalle righe. Io non ero contro il sindaco perché nel comunicato dice noi siamo dalla parte del sindaco, io non ho mai detto che ero contro il sindaco, vuol dire che tutti appassionatamente siamo col sindaco. Il sindaco ha detto che è con Forza Italia, Forza Italia è con il sindaco, io sono con Forza Italia e col sindaco, quindi siamo tutti assieme. Vorrà dire che abbiamo fatto due binari, andate e ritorno, per la magenta deserto e quindi Laura Cattaneo ha preso l'uccio le perlanterne. Infatti si potrebbe far parafrasare questo fatto. Io ho chiesto da che parte loro stavano andando, davanti, a destra, a sinistra e lei mi ha risposto che stiamo andando in aereo. E questa la dice lunga su come certi politici siano maturati nel tempo. Dovrebbe fare ancora un bel po' di tirocinio e stare un po' più vicino a Sgarella che per il momento è coordinatore, poi vedremo se lo rimarrò o non lo rimarrò coordinatore, per poter forse imparare a fare un po' la politica, perché così invece fa solo pettegolezzi e basta. Va bene, ecco i numeri comunque, quei pochi che hai visto, strada di opere che... I numeri che io ho visto mi soddisfano abbastanza. Il sindaco ha abbastanza chiarito che i soldi per fare via Garibaldi ci sono, che l'intervento su Piazza Liberazione verranno attinti dal fondo opere di straordinaria e ordinaria manutenzione, per cui io devo chiaramente dirmi soddisfatto a questo punto. Va bene, allora ringraziamo Felice Sgarella, sarà presente al Consiglio Comunale del 26 di febbraio e grazie a tutti, arrivederci. Da dietro le quinte, da dietro le quinte, le porte sono aperte a tutti quelli che vogliono replicare in maniera a dire qualcosa. Giustamente. Ok.